Camminava tranquillamente in una via di scoglitti quando invece doveva trovarsi agli arresti domiciliari. Sono così scattate le manette per il trentenne Nunzio in Corvai appizzicato nel pomeriggio di ieri dai carabinieri della locale stazione mentre erano impegnati nell'ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti nel comprensorio di Vittoria. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine che lo avevano arrestato in passato per le stesse violazioni, stava percorrendo la strada che conduce alla sua abitazione quando appunto una pattuglia di militari lo ha riconosciuto e fermato. Considerata l'assenza del domicilio e il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti al regime dei domiciliari, dopo le formalità di rito in caserma, l'uomo è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari, doveva rispondere ancora una volta al creato di evasione. Gli inquirenti stanno anche vagliando attentamente la posizione dell'uomo per accertare le ragioni per le quali non si trovasse in casa, così come previsto.